Questo, presumo che sia molto più grande, è New York. E questo invece l'hai mostrato tu l'altra volta, ho tentato di copiarlo su un altro supporto e con un altro mezzo. Questo è Franz Klein. Copiarli mi ha fatto capire che lui descrive qualcosa comunque, anche se non sembra. Cioè il fatto che dia questo titolo all'opera, ci sono delle cancellature, non è un segno verità, solo istintivo. E qui si vedeva ancora meglio, sembrava un paesaggio. Infatti mi sono fissata a copiare e poi ho capito, no, c'è qualcosa, è un prato, un camper. Per cui copiare non è l'unica cosa che devo fare. Franco, ci fai vedere gli originali? Ci sono? Sì, sì, sì.